carissimi aspettatori buonasera a tutti e benvenuti la puntata 3.65 di aspettando il giannizio nero oggi vorrei proseguire prima di iniziare prima di fare la puntata della serie principale dedicata a un gioco dal nome assolutamente impronunciabile a cui adesso non pronuncerò di cui parleremo con mauro farina e massimiliano della rovere vorrei proseguire con il discorso iniziato ieri relativo ai giochi di ruolo indipendenti per meglio approfondire alcune tematiche storiche ieri si è discusso un poco con mauro sul fatto di fatto rispetto a mentalità ecco il gioco di ruolo soprattutto quelli indipendenti a volte riescono a comunicare la mentalità la sensazione di un'epoca o di un evento senza però andare a toccare il fatto storico effettivo anzi spesso e volentieri come nei due giochi che di cui vi parlerò oggi addirittura sta andando a presentare situazioni storiche completamente differenti situazioni anzi più che storiche letterarie ambientazioni completamente differenti questo proprio per comunicare una situazione un modo di pensare anche per comunicare le problematiche o le situazioni o le o quello che i protagonisti di quel momento hanno vissuto un docente americano sta utilizzando giochi di ruolo indie proprio per queste per queste tematiche e io devo ammettere che ho preso qualcosa dalla sua esperienza e qualcos'altro l'ho aggiunto io anche grazie ai consigli francesco rugerfred sedda che è uno dei miei più cari amici e una delle persone più esperte nel campo dei giochi che conosca in assoluto bene entrambi consigliano il primo gioco di cui vi parlo oggi che si chiama the kite year chiedo scusa a mauro e a tutti quanti gli anglofoni comunque vuol dire l'anno tranquillo dell'autrice americana avery edler che abbiamo avuto ospite alla tavola esagonale di modena e alla play di modena lo scorso anno che ho avuto la fortuna di poter conoscere e con cui ho potuto parlare the kite year praticamente la pre è un gioco che simula le vicissitudini di una comunità che appena è emersa da un anno da un periodo di guerra o di devastazione o comunque sia da un periodo estremamente difficile sono i giocatori che scelgono quale periodo poi come strutturare insomma quello che è successo e i giocatori quindi struttureranno il livello tecnologico struttureranno la situazione non spiegheranno particolarmente che è successo prima e non si sa neanche quello che succede dopo si sa solamente che dopo questo anno quieto dopo questo anno tranquillo arriverà qualcosa mi viene da dire l'inverno sta arrivando vista appunto la serie televisiva in questo momento maggiormente in auge arriverà qualcosa per cui dovranno essere preparati e il gioco ti porta quindi a strutturarti in modo che tu giocatore non interpreti un personaggio singolo interpreti quindi una parte della comunità che verrà via via arricchendosi con l'andamento della partita un sistema che utilizza anche questo le carte francesi che evidentemente come i giochi di ieri sono molto adatte per questo tipo di scelta casuale dà delle basi degli avvenimenti che poi i giocatori dovranno strutturare meglio e i giocatori iniziano che la loro comunità ha tre adesso vado a memoria spero di non dire stupidaggine comunque ha una risorsa abbondante e ha tre risorse invece che sono carenti ecco poi andando avanti avverranno situazioni avverranno tutta una serie di avvenimenti che i giocatori dovranno in primis spiegare e poi dovranno anche risolvere continuando a crescere continuando a fronteggiare le necessità iniziando un periodo la primavera in cui tutto sembra che vada bene in cui si può progredire si può crescere passando all'estate e poi arrivando all'autunno e all'inverno che invece iniziano a tirare fuori problemi su problemi e in cui i giocatori dovranno poi arrivare a fronteggiare fino alla fine per capire se sono in grado o meno di sopravvivere al pericolo che sta arrivando ecco questa è esattamente quello che tutto sommato le prime comunità di individui abituati a vivere in tribù o in clan familiari iniziarono a vivere nel passaggio fra il paleolitico e il neolitico il mesolitico che abbiamo imparato tutti quanti a scuola ormai non è più considerato dagli studiosi vi do questa notizia forse per alcuni di voi agghiacciante si passa dal paleolitico superiore direttamente al neolitico ecco in quel momento in cui la tua vita cambiava profondamente in cui eri comunque in un ambito fortemente ricco di pericoli ma in cui ti sentivi quasi obbligato eri quasi obbligato dalle situazioni a riunirti a metterti insieme a fronteggiare altre comunità che potevano essere pericolose ecco in situazioni come queste The Quiet Year le presenta benissimo le presenta benissimo e ti fa riflettere sugli stessi aspetti su cui appunto dovevano riflettere anche questi individui si può ambientare in ogni in qualsiasi modo anche con l'invasione zombie tanto per citare The Walking Dead che è un altro in realtà è un altro prodotto seriale che rappresenta situazioni come queste insomma in cui gli uomini sono obbligati a riunirsi per un obiettivo comune e a fronteggiare e con qualunque cosa che arriva dall'esterno che potrebbe essere un aiuto potrebbe essere anche un potenziale pericolo ecco l'ho provato in classe questo quest'anno con la mia prima con risultati diciamo così altalleranti nel senso che se molti ragazzi poi mi hanno detto che hanno capito un po' meglio la necessità di avere certe 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 risorse di avere certi certi aiuti per avere una sicurezza di fondo altri non sono riusciti a uscire dalla loro dalla loro realtà di comodo da quello che conoscevano non hanno fatto le domande che il gioco richiedeva il caso più reclatante in assoluto è stato un gruppo che praticamente ha risolto una risorsa che mancava non mi ricordo se era l'acqua o il cibo poi ne ha risolto un'altra che era in materia di costruzione e poi come terza cosa hanno deciso di aprire un supermercato e alla mia domanda su ma come arrivano le merci lì chi le produce con cosa si pagano ecco tutte queste domande sono cascate dicendo ma vabbè comunque il supermercato era più comodo perché la gente andava a comprare le cose al supermercato invece che era di fuori ecco a parte questi casi in realtà molti altri invece hanno prodotto belle storie sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista che dal punto di vista ambientale insomma con comunità che si uniscono comunità che si dividono lotte interne problematiche dovute a decidere se è meglio fare il ponte per andare dall'altra comunità oltre il fiume o rinforzare la la barriera la recinzione perché non si sa mai perché possono arrivare animali selvaggi possono arrivare nemici insomma il gioco ti pone di fronte a tutta questa serie di domande una dopo l'altra fra l'altro con un crescendo con un crescendo molto 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 intenso ecco se viene giocato se viene giocato seriamente insomma secondo le potenzialità che ti offre quindi the criteria di Avery Adler lo inserirò nei commenti sto vedendo che alla fine mi sono dilungato un po' troppo ma il gioco tutto sommato lo meritava quindi lo consiglio fra l'altro è acquistabile tranquillamente online metterò il link appunto nei commenti costa 10 dollari quindi insomma è giusto un modo per premiare l'autrice del prodotto per la sua fatica ed è sicuramente un consiglio da dare per coniugare e l'ambientazione che uno preferisce con veramente vivere sulla propria pelle vivere sulla propria pelle quello che hanno vissuto i nostri antichissimi progenitori visto che Max che ringrazia perché mi ascolta sempre ed è già in linea me lo chiede spesso per iscritto io ci metto un po' a leggerlo lo dico direttamente il gioco prevede da 2 a 4 giocatori e dura mediamente un'ora per giocatore poi magari un'altra volta sempre in base alle mie possibilità proviamo anche un actual play direttamente online che la radio può permettere actual play del gioco di ruolo sicuramente meglio a mio parere personale che del wargame da tavolo anche se sto avendo grandi soddisfazioni dei vostri commenti sul mio actual play dei 13 minuti di qualche giorno fa che invece su cui io non ero particolarmente convinto mi state quasi facendo venire la voglia di provarne un altro quindi questo è tutto ci vediamo tra pochissimo con il Giannistero Nero con la trasmissione ufficiale ribadisco non ripeterò il gioco di cui il titolo lo lascerò dire a Massimiano e la rover per le prossime volte quindi a questo punto faremo sicuramente un'altra puntata dedicata a Doggy Dog che è un altro splendido gioco di ruolo indipendente che invece sviluppa molto bene le tematiche legate al legate al colonialismo con questo vi saluto ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato in diretta e quelli che mi ascolteranno e ci risentiamo tra pochissimo sul canale del Giannistero Nero ciao a tutti anzi come dice il Giannistero sigla